Benvenuta e benvenuto in questa pagina dove oggi vorrei parlarvi di occhiali da sole. Ora, mi sono chiesto a che cosa servono gli occhiali da sole. Tenete presente che io sono un ex portatore sano di occhiali da sole. Mia madre diceva che ero azionista della, per non fare pubblicità a nessun brand ve lo dico, ero azionista della Ray-Ban. Non sono mai stato azionista della Ray-Ban, però in realtà indossavo occhiali da sole ovunque. Parlo di quando ero adolescente e anche dei primi anni dell'età adulta. Vivevo con gli occhiali da sole, le avevo ovunque. Poi ho fatto un rapido ragionamento e mi sono reso conto di alcune cose. Successivamente ho scoperto il metodo Bezzi, sono un insegnante di metodo Bezzi, chi di voi mi conosce lo sa, quindi educazione visiva naturale. Il ragionamento riguarda proprio gli occhiali da sole, uno dei ragionamenti riguarda gli occhiali da sole. E siccome di recente nei social un post era dedicato proprio a come si utilizzano gli occhiali da sole ai nostri giorni, come dovrebbero essere utilizzati gli occhiali da sole ai nostri giorni, il post era scritto da qualcuno che si occupa, dice, di educazione visiva. Ecco, io nei confronti di alcune affermazioni sono abbastanza perplesso. Questa persona consigliava di utilizzare gli occhiali da sole, perché il sole può dare fastidio, può creare delle difficoltà. Sto parlando di educatori visivi, educatori di metodi naturali legati alla vista. Ecco, io veramente sono perplesso su questo genere di affermazioni che provengono dal mio stesso ambiente. Il metodo Bezzi, educazione visiva in generale, non faccio il nome di altri metodi, ma nell'ambiente dell'educazione visiva naturale. Il ragionamento è semplicemente questo. Mi sono chiesto che cosa succede quando siamo in un ambiente di semi-oscurità, non al buio totale, ma in un ambiente di semi-oscurità. Succede che la natura, previsto che gli esseri umani, ingrandissero, non perché lo vogliono fare, ma perché è naturale che succeda questo, ingigantissero, ingrandissero le proprie pupille in modo tale da poter percepire la maggior quantità di luce possibile, permetterci comunque di esistere, di vivere anche quando la luce è piuttosto bassa. Quindi, la luce del sole scende, non c'è luce artificiale in quel contesto, la pupilla si dilata, e si dilata veramente di parecchio. Cosa succede invece quando c'è la luce del sole, come adesso? In un contesto naturale non succede niente che noi non siamo in grado di seguire. E quello che succede è che semplicemente la pupilla si restringe. Le palpebre, la persona non se ne rende conto, ma le palpebre vengono sbattute con una frequenza maggiore rispetto allo standard, che va dalle 12 alle 16 volte al minuto, questo è lo standard. Invece no, quando c'è molto sole, le palpebre si sbattono con una frequenza maggiore, ma non perché si voglia farlo, è perché la natura questo ha organizzato in modo tale che noi lo si faccia, esattamente così, e la pupilla si riduce. Torniamo al topic, occhiali da sole. Che cosa succede quando siamo in presenza di una forte luce come questa, io sono esattamente in questo momento di fronte al sole, se potete vedere l'ombra del telefonino davanti a me capite che il sole ce l'ho esattamente in viso, e lo posso anche guardare direttamente, non lo faccio normalmente, ma l'occhio mi può scappare verso il sole, non succede assolutamente nulla, se io avessi gli occhiali da sole, non percepirei il fastidio che percepisco quando guardo il sole direttamente. Ma che cosa succede al mio occhio quando io guardo verso il sole indossando gli occhiali da sole? Che la pupilla rimane dilatata, perché per il cervello, per il mio cervello, e per il cervello degli esseri umani, prendere il sole dietro gli occhiali da sole equivale, il cervello traduce questa informazione come siamo all'ombra. Quindi il corpo è all'ombra e non permette la secrezione di tutta quella serie di sostanze, prende ad esempio melanina e tutta la secrezione di ghiandole endogene del nostro organismo che permettono non di contrastare, ma che permettono di vivere in armonia e in modo naturale la luce del sole, che normalmente invece avverrebbe. Faccio una piccola trasposizione in un altro contesto, mi trovo in spiaggia e indosso occhiali da sole mentre prendo il sole, mi abbronzerò meno e non soltanto mi abbronzerò meno, ma addirittura rischio di scottarmi di più rispetto a prendo il sole senza gli occhiali da sole. Certo, perché il corpo reagisce di conseguenza al fatto che la luce che entra all'interno degli occhi, filtrata dalla lente degli occhiali da sole, fa pensare al cervello di essere in un contesto in cui il sole non esiste. Ai nostri occhi succede la stessa cosa. Ovvero, per il cervello, siccome non siamo al sole, anche se lo siamo, ma non siamo al sole, dietro agli occhiali da sole mantiene la pupilla dilatata. Quindi, che cosa succede indossando gli occhiali da sole quando siamo al sole, ai nostri giorni? Sono fondamentalmente tre le cose che capitano. La prima è che diventiamo molto più trendy, perché indossare gli occhiali da sole è fashion, assolutamente. Ai nostri giorni, magari fra 20-30 anni non lo sarà più, ma oggi come è, oggi assolutamente sì. Non è mai capitato a qualcuno di voi di vedere passare qualcuno con degli occhiali da sole e pensare che fosse una esteticamente bella persona e magari di seguirla con lo sguardo. Poi vi capita, a volte capita, di trovarsi di fronte a questa persona che toglie gli occhiali da sole e vi accorgete che forse avete preso voi un abbaglio. Però dietro gli occhiali da sole sembrava molto più carina questa persona. Quindi indossare gli occhiali da sole vuol dire essere alla moda in qualche modo e vuol dire avere un fascino, suscitare un fascino maggiore rispetto a non indossare gli occhiali da sole. La seconda cosa che succede indossando gli occhiali da sole è che contribuiamo all'innalzamento del PIL. Sì, perché l'Italia è leader internazionale, leader mondiale nella produzione di occhiali. Nel settore dell'occhialeria, così si chiama, è leader mondiale. Noi costruiamo, produciamo, commercializziamo, divulghiamo occhiali da sole molto ma molto più di tanti altri paesi. Li facciamo molto ma molto migliori di tanti altri paesi. Quindi quando indossiamo occhiali da sole contribuiamo ad alzare il PIL e questa è una cosa positiva. Diventiamo anche più fascinosi in qualche modo. Questo può essere una cosa positiva. Può essere? Sì, perché la terza cosa è che in un certo senso, per dirle in modo molto diretto, e so che qualcuno potrebbe non essere d'accordo in questo senso, anzi sicuramente non sarà d'accordo, però preferisco dire le cose così, esattamente come sono, come sono per come le intendo io e per come è possibile dimostrare esattamente essere. In un certo senso, indossando gli occhiali da sole ai nostri giorni, se non siamo in alta quota su un ghiacciaio o se non siamo in barca vele in Nuova Zelanda, ad esempio, dove sopra la testa avremmo pure il foro dell'ozono, è un po' come prenderci in giro da soli. Prendiamo in giro il nostro sistema visivo, prendiamo in giro il nostro cervello, prendiamo in giro le reazioni del nostro corpo perché le alteriamo in qualche modo. Però poi diciamo, eh ma io ci lamentiamo anche magari, no? Io però ho problemi di vista, oppure a me la luce del sole dà un fastidio incredibile. Alzo la mano e faccio ammenda in passato, questo succedeva anche a me. Ripeto, come ho detto prima, io indossavo gli occhiali da sole sempre, li utilizzavo all'aperto, ho imparato ad utilizzarli addirittura nella metropolitana di Milano, frequentavo l'università in quel periodo e frequentavo l'università in metropolitana. Usavo la metropolitana per andare in metropolitana, io indossavo gli occhiali da sole anche in metropolitana. Sì perché i neon della metropolitana a me davano fastidio. Indossavo gli occhiali da sole a un certo punto anche per studiare. Quindi ero sui libri di fisiologia, di anatomia, di biomeccanica del periodo, quello studiavo e lo facevo con gli occhiali da sole. Ho capito che non è così che deve funzionare, non è così che può funzionare la vita. E quindi ho cominciato a fare qualcosa di diverso, prima ancora di conoscere il metodo Bates per cercare di uscire da quello che era per me diventato un loop. Sì perché indossando gli occhiali da sole non potevo più farne a meno. Non è come essere tabagista, quindi non è come fumare sigarette e non riuscire più a smettere di fumare. E' un'altra cosa. Ma la dipendenza è veramente molto simile. Più li utilizzavo e più avevo bisogno di utilizzarli. Perché la luce delle candele, la luce artificiale delle lampadine a me dava fastidio. Ed è quello che succede normalmente. Quando le persone vengono in studio da me o alla scuola e vengono in studio perché hanno una difficoltà visiva, una delle cose a cui chiedo è se a loro la luce del sole dà fastidio. La maggior parte di loro risponde di sì. Giro la cosa in un altro modo. Se chiedete a qualcuno se è infastidito dalla luce del sole e la risposta è Ah, assolutamente non posso fare a meno degli occhiali da sole, quella persona ha un problema di vista. Se non ce l'ha vuol dire che non è ancora stato conclamato, ma il problema di vista ce l'avrà da lì a breve. Perché non è naturale per il nostro organismo, per l'organismo umano, avere difficoltà nello stare alla luce del sole. E la luce del sole contiene tutte le frequenze possibili che sono positive. Quando sono bilanciate per come il sole e la natura che ha costruito il sole, mettiamola così, è stata capace di fare. Sono un tantino sbilanciate come dietro gli occhiali da sole. Sì, intendo sbilanciate perché qualche genio, non so quando è avvenuto esattamente, ma potete cercare questa informazione in internet e sicuramente la troverete, ad un certo punto ha stabilito che alcune frequenze delle vibrazioni emesse dal sole, delle radiazioni e delle vibrazioni emesse dal sole, fossero dannose per l'essere umano, per la vista in particolare, quindi bisognava proteggerci. E allora che cosa fa il genio? Mette dei pigmenti all'interno di lenti, la tecnologia lo consentiva ai tempi, e costruisce gli occhiali da sole. Con gli occhiali da sole succede che pupilla dilatata al massimo, alcune frequenze della luce del sole vengono fermate dalla lente, dagli schermi che ci sono dei pigmenti che sono contenuti all'interno della lente, altre invece entrano tranquillamente e completamente, non con una pupilla socchiusa come dovrebbe essere in natura, ma con una pupilla completamente dilatata e con un occhio che non fa altro che aspettare le radiazioni, comprese quelle nocive, che possono entrare all'interno dell'occhio. Ops! No, alcune nocive vengono fermate da questi pigmenti. Certo, ma quello che entra è totalmente sbilanciato, non ha più niente a che vedere con ciò che la natura ha previsto. Luce del sole, occhi aperti, ci si guarda intorno e non succede niente. Occhiali da sole? Sì, ripeto, a parte il pile, a parte l'estetica, gli occhiali da sole possono servire in alcuni contesti, assolutamente sì. Se siete a sciare in alta montagna, a sciare o a ciaspolare o a camminare comunque ad alta quota, su un ghiacciaio magari, ecco, magari indossateli, possono essere utili. O anche se siete davvero in barca a vela, in Nuova Zelanda, indossate degli occhiali da sole, vi possono aiutare in qualche modo. Ma perché lì la situazione è sbilanciata, non è più esattamente consona alla natura umana. Siamo fuori dal contesto della natura umana. Ma le nostre latitudini, in pianura, in collina, al mare, alle nostre latitudini, normali latitudini, non vivendo al polo nord, non vivendo al polo sud, non vivendo in cima all'Himalaya, degli occhiali da sole sono un po' una forzatura su quello che normalmente dovrebbe accadere all'apparato visivo dell'essere umano. Se non lo lasciamo accadere, il sistema si sbilancia e alcune potenzialità che abbiamo le perdiamo. la vista tende a diminuire e non succede niente apparentemente. Apparentemente non succede niente. Poi passa il tempo, passano gli anni magari, e a una certa età si dice «Eh, ma io prima questo riuscivo a vederlo, adesso non ce la faccio più, senza occhiali». Però io gli occhiali non li avevo prima. Oppure questo genere di difficoltà visiva io prima non ce l'avevo, adesso invece sì, ho una difficoltà visiva che prima non avevo. Dipende soltanto dall'uso degli occhiali da sole? No. Sapete, se conoscete il mio lavoro con il metodo Bates, se conoscete me in qualche modo, sapete che non faccio la guerra agli occhiali da sole nella maniera più assoluta e che non credo che la causa di tutti i mali legati alla funzione visiva dipendano dagli occhiali da sole e da un loro sbagliato, errato utilizzo. Assolutamente no. In parte però forse sì. In parte, in parte, una piccola parte o grande parte, non ve lo so dire, sì. Bene, mi fermo qua. Le informazioni che vi ho dato in qualche modo spero possano essere per voi utili in qualche modo. Non fidatevi di quello che dico mai, non fidatevi mai. Cercate in internet ciò che vi ho detto. Troverete studi addirittura dettagliati, approfonditi su che cosa succede alle persone quando stanno a sole con e senza gli occhiali da sole. Ci sono un sacco di fake news, questo è vero, ma ci sono anche tante informazioni che è possibile approfondire in qualche modo e che vale la pena approfondire. Quindi vi saluto, buona passeggiata all'aperto se la potete fare e buona osservazione di tutto ciò che vi circonda, senza occhiali da sole per quanto è possibile. Un abbraccione, alla prossima! Grazie!